Sì, una chiusura che penso che sia stata fatta in un momento di particolare caldo. Stavo guardando un attimo le temperature anche dell'anno passato che in questo periodo sono state superiori. Siamo arrivati a questa chiusura perché finalmente il Comune di Teramo si è degnato di entrare all'interno di uno dei nidi nel periodo di luglio. Questa situazione è stata segnalata più volte. Noi già da dicembre abbiamo inoltrato delle richieste al Comune. A febbraio nuovamente le abbiamo risollecitati. Abbiamo estirpato al Comune una promessa che terminava come periodo di efficientamento del clima a maggio. Ci siamo accorti che a maggio non è stato fatto nulla. A questo punto siamo tornati alla carica. Abbiamo nuovamente risollecitato il Comune. E così con stupore o meglio con imbarazzo perché mi sento imbarazzato come cittadino di Teramo ho visto portare un numero considerevole di pinguini. Nella struttura di Gammarana parliamo di 7-8 pinguini. E la prima cosa che mi sono chiesto è che gli impianti elettrici reggeranno? E infatti subito si è notato questo problema. Hanno fatto un intervento sull'impianto elettrico, quindi con soldi pubblici, ma anche questo non ha risolto. I pinguini, come ben sappiamo, sono condizionatori portatili. Hanno un'efficacia per una metratura ridotta a 30-40 metri. In strutture di oltre 300 metri quadri ce ne vorrebbero 12. Ma di questi condizionatori non sono stati mai accesi più di 2-3 perché c'erano quelli che perdevano acqua, quelli che andavano in blocco per altri motivi. E questo, giustamente, chi ha portato i pinguini non ha ritenuto ovvio di doverli prima provare per vedere se erano efficaci, se erano efficienti, se gli impianti avrebbero portato il loro beneficio. Siamo arrivati che la mattina all'apertura si avevano 33 gradi all'interno della struttura. Per arrivare alle 11, con tutti i pinguini utilizzabili in uso, a 36 gradi. A quel punto ci siamo iniziati a preoccupare per la salute dei bambini, soprattutto, ma anche dei lavoratrici. Siamo arrivati a fare un esposto alla ALS e al rispetto rato del lavoro. Stranamente, in contemporanea a questa segnalazione, il Comune manda i tecnici a controllare la temperatura e a provare ad accendere tutti i pinguini disponibili. A quel punto, l'impianto elettrico, nonostante le modifiche effettuate, è andato in blocco. E quindi hanno visto che l'unica soluzione era quella che per la tutela della salute dei bambini e delle lavoratrici, di chiudere. Tra l'altro, tutela che già aveva avuto alcuni epiloghi non piacevoli, perché avevamo già avuto segnalazioni di dipendenti che avevano avuto degli episodi simil-singopali e addirittura anche un piccolo che era all'interno. Fortunatamente episodi lievi, ma non possiamo aspettare gli episodi maggiori per poter intervenire. Poi un altro aspetto che a noi non ci è piaciuto nella gestione del Comune è stato quello della valutazione delle dipendenti. Le dipendenti hanno avuto, tutti, nessuno escluso, una valutazione inferiore rispetto all'anno precedente di fino a 6-7 punti. Con la media praticamente di 5 punti, tutti i dipendenti. Le valutazioni, giusto per dire che cosa sono, vengono fuori dal vecchio decreto Brunetta, il 150 del 2009, dove mette in campo un ciclo della performance. La performance è un progetto per la valorizzazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio. In questo ciclo della performance ci sta, primo, l'obiettivo che l'ente vuole portare avanti, poi ci sono degli obiettivi individuali che devono essere concordati e consegnati ai dipendenti e poi una valutazione. Noi praticamente non abbiamo, nel riscontro che sono stati praticamente edotti il personale di quelli che erano gli obiettivi da portare avanti, e soprattutto la valutazione è stata data, non è stata data nessuna motivazione. Non è stato fatto nemmeno un controllo intermedio, una valutazione intermedia che è obbligatoria da legge. Per noi questo è un atto ritorsivo, stiamo ancora aspettando che l'amministrazione ci chiami dopo nostra richiesta per darci spiegazioni, ma anche questa non abbiamo nessuna spiegazione.